Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile, nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Un robusto campo di alta pressione in espansione dal Nord Africa con un promontorio in quota diretto dalle Canarie fin sull'Europa centrale e dalle Azzorre al suolo verso Ovest, un altro campo di alta pressione, un connubio perfetto per portare condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato su tutta la nostra penisola, in modo particolare sulle regioni centro-settentrionale in una prima fase, per poi tra sabato e domenica l'alta pressione, il promontorio in quota, si estenderà anche alle nostre regioni meridionali, dunque anche alla nostra regione, determinando, come ho accennato, una condizione meteoclimatica a chiara connotazione estiva. Le perturbazioni scorrono all'atitudine settentrionale dell'Europa, per cui un weekend ampiamente soleggiato con temperature molto elevate. Già nel corso della giornata di venerdì abbiamo avuto temperature massime, diffusamente superiore a 25 gradi centigradi sulla nostra regione. Ma vediamo in dettaglio il tempo previsto per questo weekend, partendo da sabato 13 aprile. Sulla nostra regione avremo condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con ulteriore aumento delle temperature massime, fino a 26-27 gradi centigradi nelle aree più interne. La ventilazione è debole di direzione variabile e il mare è calmo o quasi calmo. Per la giornata di domenica, 14 aprile, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, ma maggiormente soleggiato, dunque sereno direi, per l'intera giornata. Ulteriore lieve aumento delle temperature massime. Probabilmente si sfioreranno i 29-30 gradi centigradi nelle aree più interne della regione, con ventilazione debole e mediamento occidentale e mare quasi calmo. Successivamente, lunedì, avremo ancora l'insistenza di questo promontorio in quota di matrice nordafricana, e dunque ancora condizioni di tempo stabile con temperature elevate, ma dalla giornata di martedì, come possiamo apprezzare da questa mappa prevista per le ore centrali di martedì 16 aprile, la circolazione subirà un drastico mutamento. L'alta pressione delle azzorre si ergerà verso il nord atlantico, supportata dal promontorio in quota di natura africana, e dunque una saccatura colma di aria fredda, relativamente fredda, fresca per il periodo, si porterà verso sud, determinando un peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalle regioni settentrionali. Siamo dunque a martedì 16 aprile. La depressione che andrà a formarsi sul Golfo Ligure, diciamo al momento ipotizzabile sul Golfo Ligure, dovrebbe poi nei giorni successivi evolvere verso sud, e quindi accompagnata da un fronte perturbato che determinerà una sensibile diminuzione delle temperature, con valori che probabilmente tra mercoledì e giovedì si riporteranno al di sotto della media del periodo, di 3-4 gradi probabilmente, e dunque avremo un'anomalia termica positiva nel corso di questo weekend, fino a 7-8 gradi centigradi in più rispetto alla media, e un'anomalia termica negativa ma di 3-4 gradi centigradi. Quindi volendo parlare di anomalia per questa primavera, la vera anomalia è quella che stiamo vivendo in questo fine settimana, un'anomalia termica positiva, meno accentuata, quindi quella negativa, che avremo dunque a metà della prossima settimana. Per il momento mi fermo qui, per maggiori dettagli vi invito sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.metregiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.